Ciao Foodspringer, sono qui e voglio fare un unpackaging. Allora, unpackaging, vuol dire, mi è arrivato il mio, diciamo, il mio pacco da Foodspring e vediamo che ci arriva, perché ormai stiamo entrando proprio in, diciamo, nella stagione natalizia. Oh, guarda che carini, un bellissimo auguro di Natale. Ciao Jill, qui da Foodspring si respira già l'atmosfera natalizia ed è vero. Noi tutti quanti stiamo sentendo questa atmosfera quando ci arrivano i regali. Tutti pronti grazie al nostro Christmas pack. È una novità. Andiamo per scoprire insieme, perché me l'hanno detto delle novità, ma non me l'hanno svelato, chi sono i gusti. Allora, abbiamo nuovi gusti, il fruit jam con 85% meno zucchero, però vediamo che allora winter apple con cannella? La mela invernale con cannella? Oh, wow, ragazzi, questa è roba da... Oh, io non... Oh, buoni... No, vabbè, no, vabbè. Natale in una confezione, Natale in dentro una marmellata. Mmm, 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 mmm. Prima la matta per la cannella. La cannella non è soltanto buona come spezia, ma è eccellente per aiutarti a mantenere lo zucchero a livello delle glicemia nel sangue, così ti aiuta a riscaldare. È un ottimo, la cannella è anche un ottimo antiossedante, così, oltre al fatto di essere buono con il gusto, è anche molto sano come prodotto per il nostro corpo. Andiamo avanti. Caspita, lì, non l'hanno impacchettato bene. Facciamo l'intima. Eccoci qua, ragazzi, il nostro fruit jam e qui abbiamo prugna e cannella. Prugna e cannella, mele e cannella, la novità delle novità di questa stagione natalizia di Food Spring, le nostre nuove. Diciamo, mmm, mmm, è molto. Marmellate, però a basso contenuto di zuccheri aggiunti. Allora, qua abbiamo 90% meno zuccheri aggiunti e qui con la cannella e la mela 85% meno zuccheri. Però andiamo a vedere che ci arriva per Natale, ok? Che già l'anno scorso era molto divertente. Fatelo con me, se ne stiamo arrivando, c'è anche Spanky che è molto incurioso. C'è Spanky? Ok, eccoci qua. E andiamo a vedere. Eccoci qua, winter box di Food Spring. Allora, unpackaging, vediamo che ci dà. Lo shaker, ok? Lo shaker bianco, come il nastro bianco Natale. E poi abbiamo shape shake di cannella, ragazzi, di cannella. La shape shake è fantastico. E di marzapane. Allora, abbiamo marzapane e cannella, shape shake. E perché sono buoni questi? Sono buoni perché tutti quanti esagereranno sotto Natale, ok? E così, che cos'è? Cioè, tutti quanti sotto l'albero, come c'erano già a pensare, oh cielo, ho mangiato troppo, sto mangiando troppo, mi sento gonfio, mi sento fuori forma. Invece noi con Food Spring possiamo stare in forma anche sotto Natale. Abbiamo qui la shape shake con marzapane, che è un gusto limitato soltanto per l'inverno. E poi la cannella, che io vado letteralmente matta. Per la cannella è uno dei miei proprio gusti preferiti sulla pianeta Terra. Ah, babba, babba. E shape shake non è soltanto proteine, che è molto importante. Stiamo parlando anche delle carnitine, anche di tantissime fibre che tu, quando prendi la shape shake, stai nutriendo i muscoli e stai anche riempendo la tua pancia, così ti senti sazi per più tempo, ti sta aiutando a bruciare gli acidi grassi e ti sta aiutando la vostra microbioma, perché l'inulina è una fibra molto, molto sano per aiutare la nostra flore baraterica intestinale a essere più performante durante la stagione natalizio. Così, novità delle novità. Abbiamo visto il nostro Winter Box di Food Spring. La novità delle novità, le nostre nuove marmellate, che sono mele a cannella che è arrivato, prugne a cannella che è arrivato, e il nostro Winter Box che arriva questi tre prodotti insieme, ok? Shape shake marzapane, shape shake cannella con il suo comodissimo shake carino, tutto bianco natale con anche il dorato carino, ok? Così ci possiamo fare i nostri shape shake e possiamo affrontare la nostra, diciamo, natale in forma. Vi aspetto alla prossima, ricordate che c'è il mio sconto di 15% utilizzando Jill YT e perché no? Andate subito su foodspring.it di fare il vostro ordine e fate anche, diciamo, portatevi avanti con le spese natalizie, ok? Buon Natale a tutti! Ciao da Jill!